GIOVEDÌ 21 OTTOBRE Del sindaco e di tutti gli eletti è iniziato ufficialmente il mandato di Piero Castrataro, quale primo cittadino di Isernia. Entro dieci giorni il primo consiglio e già in pazza il toto giunta, ci dice tutto, Valentina Ciarlante. Ha indossato per la prima volta la fascia tricolore e il volto, sorridente e tranquillo come sempre, in quel momento ha tradito più di qualche emozione. Piero Castrataro è ufficialmente il nuovo sindaco di Isernia. La commissione elettorale ha completato il lavoro di controllo dei verbali delle 23 sezioni e nel chiostro di Palazzo San Francesco si è proceduta la proclamazione di tutti gli eletti in questa tornata amministrativa 2021. Una cerimonia brevissima a cui ha preso parte tutta la squadra che ha sostenuto Castrataro nei due mesi di campagna elettorale e che ora si accinge a governare la città contando sui fondi del PNRR, ma anche su ciò che si riuscirà a intercettare da altri bandi europei e con l'obiettivo di iniziare il percorso di rinascita di una città che negli anni si è spopolata e che sconta le conseguenze della crisi sanitaria ed economica. Ora al lavoro sulla giunta e dentro dieci giorni il primo consiglio. Il sindaco annuncia tempi brevi per l'avvio del mandato. Avere una proclamazione così rapida è sicuramente un aspetto positivo perché così possiamo convocare subito il primo consiglio, presentare la giunta e le linee programmatiche del sindaco. Anche questa cosa verrà fatta in tempi rapidissimi in modo tale da insediarci il prima possibile per poter guardare soprattutto alcuni dati di bilancio e proseguire con tranquillità il resto della consigliatura. Ce la metteremo tutta, credo che abbiamo tutte le competenze nella squadra e nella squadra di quelli che saranno gli assessori e consiglieri per poter garantire un funzionamento della macchina amministrativa rapido, veloce e consentire anche gli investimenti privati. Non li dobbiamo dimenticare, soprattutto quelli del super bonus che potrebbero avere un impatto positivo e rapido sull'economia cittadina. Nell'esecutivo ci sarà un assessore che tra le altre deleghe avrà quella all'Europa. Dovrà occuparsi di scovare gli avvisi più interessanti e di guidare le imprese sui progetti. Pochi giorni fa abbiamo visto alcuni bandi su progetti europei, i cosiddetti bandi life, quindi è molto probabile che ci sia però lo stesso assessorato si occuperà non solo di garantire di partecipare con il comune a determinati bandi per gli enti locali ma anche aiutare i privati e le imprese a scovare risorse europee. In occasione della proclamazione di Castrataro c'è stata anche l'ultima uscita da sindaco per Giacomo D'Apollonio che dopo essersi tolto più di qualche sassolino puntando il dito contro il centrodestra ha lasciato una relazione di mandato al suo successore. È importante garantire una continuità e soprattutto continuare a lavorare su quello che è stato già iniziato dall'aggiunta precedente ed aggiungere chiaramente del nostro per fare di meglio per la città. Facciamo ora il punto sulla situazione contagi in regione stando all'ultimo bollettino diramato dall'azienda sanitaria regionale sono 21 nuovi positivi relativamente a 364 tamponi processati con un tasso di positività intorno al 5,7%. La maggior parte dei casi si registra a Campobasso in seguito all'esplosione del focolaio nella casa di riposo Pistilli ed è proprio di Campobasso l'ultimo paziente ricoverato. Salgono quindi a 5 degenti per Covid al Cardarelli. Ci sono 4 nel reparto di malattie infettive, 1 in terapia intensiva, 5 i guariti mentre sono 90. I casi attualmente positivi in Molise 2258, i soggetti attualmente in isolamento. Paura ieri pomeriggio a Campobasso per l'arrivo di un'eleambulanza nel parcheggio dello stadio Romagnoli. Un bambino di due anni era giunto al Cardarelli in mattinata ieri per una sospetta bronchite e con difficoltà respiratorie. In realtà i medici hanno diagnosticato una malformazione congenita allo stomaco da qui l'immediato trasferimento dal reparto di pediatria dell'ospedale Campobasso al Santo Bono di Napoli per un intervento urgente. Nel corso del telegiornale vi aggiorneremo sulle condizioni di salute del piccolo. Iniziamo la nostra rassegna con i titoli di primo piano Molise. Isernia, proclamati gli eletti, Castrataro, voltiamo pagina. Il sindaco parla agli amministratori e alla città. La campagna elettorale è finita, basta polemiche. Siamo una piccola realtà. Le divisioni non hanno senso. Mano tesa all'opposizione vi ascolteremo. Da Pollonio ne ha per tutti. Da Iorio a Toma, cinque anni di accuse e bugie, cinque anni di solitudine. I richiami sotto la testata di primo piano Molise. Campobasso in ospedale per un'insufficienza respiratoria, bimbo di due anni trasferito al Santo Bono. Caporalato sfruttava i braccianti morti nella strage di agosto 2018, arrestato imprenditore pugliese. Ancora Campobasso, dirigenti assolti, incolpati dagli attuali assessori quando giocavano a fare i grillini. L'avvertenza 118 sul piede di guerra, Toma convoca le associazioni. Il bollettino, un ricovero, 21 positivi, 5 guariti, tasso al 5,7%. Come abbiamo detto in precedenza, preoccupa la casa di riposo Pistilli, si allarga il cluster, gravina, blinda la struttura. Il provvedimento, rifiutano il vaccino, sospesi sei dipendenti ASREM, quattro sono infermieri. E vediamo lo sport, naturalmente c'è la foto dell'esultanza del Campobasso. Goduri a Campobasso, 3 a 2 alla Turris, tifosi in delirio. Campani, travolti dalla reazione rosso-blu in gol di Francesco Liguori e Vitali. Coppa Italia, definiti quarti di finale, avanti tutte le big, il Termoli dilaga con 8 gol. Eccellenza, Lisernia rilancia e ingaggia Vallefuoco, Mingione carica i suoi. Restiamo proprio sullo sport, vi facciamo vedere adesso le immagini salienti della partita tra la Turris e il Campobasso. Il Campobasso ha affrontato i Campani e ne è uscito vittorioso una partita subito vivace. E' il quinto quando Giannone dal limite disegna un mancino splendido che trova Raccicchini non perfetto e la palla finisce in rete. Partenza dunque difficoltosa per il Campobasso che cambia però subito atteggiamento. Infatti dopo qualche minuto e il quindicesimo viene siglato il pareggio Rossetti e Di Francesco dialogano da campioni nella metà campo. Poi il pallone carambola sull'esterno che lo tocca e trova la deviazione del portiere e sigla il terzo gol stagionale. Turris stordita, il Campobasso potrebbe subito raddoppiare dopo due minuti ma Rossetti si divora il 2-1 su assist dalle retrovie di Bontà. Ecco l'esultanza del Campobasso. Ottimo anche l'approccio alla ripresa, al 51esimo il sorpasso e cosa fatta? Candellori recupera palla a centrocampo, lancia Liguori che davanti a Perina non esita e insacca. La gioia all'onda lunga, al 54esimo Vitali fa il tris approfittando delle difficoltà coralline. Tocco sotto, spettacolare dunque buona partita del Campobasso. Al 75esimo però arriva il 2-3. Franco fa il fenomeno, ne salta 3 prima di calciare e trovare l'autorete di Magri. Bene, vediamo adesso le altre notizie della stampa nazionale. Iniziamo dal messaggero Draghi all'Unione Europea, allarme sul gas dal pane al latte, primi rincari, la via del Premier, scorte comuni e CIP per far fronte alla crisi energetica, impennata dei prezzi per le famiglie, manovra, bonus e pensioni, il no dei partiti. Ieri in Campidoglio il flash mob delle assistenti di volo all'Italia. Linguaggi estremi, il corpo femminile e i messaggi abusati. Il ballo triste delle hostess che restituiscono la divisa. Gli scontri di Roma, l'Europa ci guarda, istigazione all'odio, Strasburgo, monito della commissaria Dalli, Lega e Fratelli d'Italia replicano violenze non solo di destra. Dal messaggero ai titoli del Corriere della Sera. Vaccini, l'Italia va veloce, Draghi sopra la media dell'Unione Europea, grazie a chi ha vinto le esitazioni, elogi per l'Italia. A discorso del Premier prima del Consiglio Europeo, Speranza, si valuta la terza dose per gli under 60. L'aumento delle assenze in ufficio e no green pass, finti malati. Bonomi, Confindustria, i partiti dico, basta assalti alla diligenza. Ricatto informatico, attacco hacker, rubati alla CIA, i dati dei cantanti, non paghiamo. I miei dieci anni senza Marco, penso a lui ogni giorno. L'intervista, Kate Fretti, l'ex fidanzata del pilota di moto GP Simoncelli. Dalla Repubblica, passiamo adesso ai titoli della Repubblica, pensioni, Draghi, tira dritto. Sette giorni per l'intesa. Sindacati e Lega bocciano la proposta del Governo per uscire da quota 100, ma Palazzo Chigi conferma tutto ultima settimana per trattare prima del Varo in Consiglio dei Ministri. L'Ocse avverte per la Previdenza l'Italia spende troppo. Battiston, grazie al Green Pass emergono contagi sommersi. Nel taglio alto, materie prime e chip, l'ingorgo globale delle merci, ombre sulla ripresa economica, l'impennata della domanda di beni, crea blocchi nei maggiori porti del mondo. Il vertice, Berlusconi, Salvini, Meloni, uniti su maggioritario e colle. Forza Italia, la rivolta dei ministri. Crimini contro le donne, Brescia uccisa, ammartellate dall'ex fidanzato, orrore afgano, giovane pallavolista, fatta, decapitare. E passiamo adesso ai titoli del Fatto Quotidiano. Open pagava a Renzi viaggi, hotel e fotografò le carte, 550 mila euro per lui dalla Fondazione Cultura, il suo banco, Matt, la lista delle spese per l'ex premier, alberghi, benzina, ristoranti, pedaggi, autostradali, servizi, foto e riprese video. Vediamo i titoli di spalla del Fatto Quotidiano. La legge di bilancio, il premier scopre lo Stato, i ministri litigano sui bonus. Stiamo con Draghi, Berlusconi vuole il colle, ma in Forza Italia Gelmini scatena la rissa. Prigliasco sul Covid, più test sempre agli stessi, colpo di coda, invernale, lotta al caporalato, la morgese sfida Salvini, Maroni torna al Viminale. Vediamo adesso insieme le notizie economiche del sole 24 ore, export al record dei 500 miliardi, made in Italy, Draghi nel secondo trimestre, vendite più 5% rispetto al 2019, ma attenti ai colli di bottiglia, trainanti, alimentari e metalli, all'estero il 68% delle imprese, il 45% attraverso le filiere. Bonus facciate, fine lavori nel 2022, se il saldo è pagato entro il 2021. I focus del sole 24 ore, la corsa del prezzo del gas, 2 miliardi contro il caro bollette, integrazione salariale, servizi, ammortizzatori alle piccole e medie imprese, sostegno alla liquidità, garanzia sacia dopo la moratoria, pensioni, quota 102 la partita sulle deroghe. Passiamo adesso allo sport, leggiamo insieme i titoli della Gazzetta, la legge di Max, titola oggi la Gazzetta, Champions 1-0, Juve anche in Russia, ottavi a un passo, a San Pietroburgo, Allegri fa 3 su 3, Lo United da 0-2 a 3-2, Ronaldo spietato, ma che bella Atalanta. Operazione derby d'Italia, Inzaghi prepara sorprese, parte la volata per la sfida di domenica alla Signora. Contatto tra Inter e Insigne per bloccare il tiragiro, la gente in sede, il rinnovo col Napoli non arriva. Servono i duri pioli e la voglia di riscatto, vediamo anche le altre notizie, il Pipita tramonta al sole di Miami, si parla di ritiro, Iguain Bomber malinconico, e poi c'è il ciclismo, il quartetto Ganna, vede un altro oro, la fidanza mondiale. Bene, con questa notizia di ciclismo, chiudiamo la nostra rassegna stampa, non prima di aver dato uno sguardo al palinsesto di oggi, alle 11 Paese Mio, 12.30 Viva la Musica, TG News alle ore 14, ore 16 Punto Verde, 18 Camminando Molise, alle 19.30 Torna il nostro telegiornale, 20 Salus TV, alle 21 Molise Sport, e alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. Con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. Grazie a tutti.